Questo è il Belluno Pride 2024, una manifestazione gioiosa e pacifica, piena di colori, sorrisi, trucchi e parrucchi. Una sola osservazione, nel documento politico di questo Pride è scritto, fra l'altro, che la manifestazione pretende, ripeto, pretende il reddito di autodeterminazione, che probabilmente è un reddito di cittadinanza sotto mentite spoglie e in versione LGBT+. Ma allora una domanda sorge spontanea. Tutta questa gente che manifesta coraggiosamente ha potuto valutare, discutere, votare questa pretesa che è stata scritta alle loro spalle e a nome loro? Certo che no. E generalmente tutti costoro neppure sono stati informati dell'esistenza di questo documento. Un documento che tuttavia li coinvolge su una richiesta che a molti italiani, anche del mondo arcobaleno, potrebbe risultare indigesta. Ho realizzato questo video del Belluno Pride nel pomeriggio di sabato 13 luglio 2024.